Una cosa che ritengo importante è quindi di continuare a sognare di investire nei loro sogni di continuare a lavorare duramente perché solamente lavorando duramente si raggiungono i risultati Ciao Luca, grazie mille per essere qui stasera Puoi dirci come hai conosciuto Tao Patch? Beh, per me intanto è un onore essere qui presente in questa serata ringrazio Tao Patch per avermi coinvolto in questo bellissimo progetto ed essere uno dei portatori di questo sistema innovativo, il Tao Patch perché grazie a Fabio e grazie anche a Michele mi hanno coinvolto sempre di più nell'attività di Tao Patch e della tecnologia Tao Patch Li ho conosciuti perché ho avuto dei problemi fisici durante il Covid e dovevo difendere il titolo europeo quindi sono entrato in contatto attraverso un altro atleta che conoscevo molto bene di altissimo livello che già utilizzava questa nuova tecnologia ed essendo io una persona molto sensibile e anche innovativa cerco sempre di trovare il sistema per migliorare le performance e anche per mantenere il mio stato fisico sempre più al top quindi facendo uno sport molto lavorante ho deciso di avvicinarmi a questa tecnologia e poi piano piano sono entrato in contatto con questa realtà che mi ha aperto tantissime porte Benissimo, puoi descriverci alcuni dei benefici che hai riscontrato indossando i Tao Patch? Ma sicuramente molta più elasticità dal punto di vista muscolare essendo come dicevo il pugilato uno sport molto logorante anche dei grossi benefici dal punto di vista articolare e appunto legato a tutto quello che è la parte della traumatologia del mio sport e poi anche abbiamo lavorato tantissimo sul miglioramento della performance su quelle che sono le sottigliezze che le persone comuni non riescono a vedere ma che un professionista deve assolutamente curare quindi da una capacità oculovisiva e quindi migliorare questa capacità assolutamente mi ha portato grandi benefici Ho capito e immagino che tu ti stia allenando veramente intensamente per difendere il titolo di campione europeo e il tuo prossimo match sarà tra due settimane puoi descriverci che tipo di allenamento stai facendo? Sì, intanto io e il maestro Freo lavoriamo molto sulle nostre abilità quindi andiamo a migliorare le nostre capacità e cerchiamo sempre di inserire nel nostro bagaglio sportivo le nuove abilità da altro canto poi lavoriamo anche su quelli che sono invece i punti di debolezza con cui riusciamo a vederci nei match precedenti quindi stiamo lavorando molto su queste abilità poi abbiamo guardato sicuramente anzi il mio maestro molto più di me e l'avversario che andremo a incontrare il 5 di agosto è un avversario belga è un avversario un po' più alto di me quindi sicuramente dovremmo fare alcune diciamo dovremmo preferire una tipologia di box rispetto ad un'altra ora ci stiamo lavorando in queste ultime settimane abbiamo lavorato sicuramente tantissimo dal punto di vista fisico essendo io un grande fighter quindi un atleta che va molto in avanti uno che dà grande continuità e sostanza al pugilato non è un attendista quindi abbiamo lavorato molto sulla nostra abilità fisica e poi stiamo lavorando su certi spostamenti che sicuramente potranno aiutarci ad averla meglio nella serata del 5 di agosto ho capito beh in bocca al lupo ultima domanda com'è stata l'esperienza sul set di Ogambiki? ma sicuramente è stata una bellissima esperienza non avevo ancora provato le luci dei riflettori dal punto di vista della cinematografia l'avevo provata per tantissime altre situazioni sia fotografico che anche video e artistico però non avevo mai girato un film sapendo appunto anche di essere inserito in un cast di un certo tipo mi ha sicuramente molto motivato e mi ha dato una grandissima esperienza io ringrazio TopHash di avermi coinvolto in questo progetto per me è stato molto naturale perché ho dovuto solamente rappresentare quello che mi esce molto bene quindi non ho dovuto forzare nessuna attività buona la prima quindi ho fatto semplicemente quello che mi sentivo di fare quindi mi hanno detto che è stato delle belle riprese ed è uscito bene quindi ne sono soddisfatto perché ho fatto quello che mi piace fare perfetto, non vediamo l'ora di vederti e hai un messaggio per i tuoi fan? dico sempre una cosa che ritengo importante quindi di continuare a sognare di investire nei loro sogni di continuare a lavorare duramente perché solamente lavorando duramente si raggiungono i risultati e quando si crede e si è anche delle belle persone poi le soddisfazioni prima o poi vengono fuori quindi bisogna assolutamente credere nei propri sogni assolutamente sì, grazie mille, buona serata grazie mille, grazie mille, grazie mille